ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video reaction sono appeso di rossi world stavolta beh intanto il trailer è iniziato e io mi rimpiccio da cansi ci riesco e bando le cianci cianci le bande via vediamo innanzitutto parla di un dinosauro perché non lo sapesse parli di un dinosauro wow andando per la tecchia che la ficca un singhiozzo vediamo cosa succede uscirà nel 2020 questo film sembra molto interessante speriamo non becca un'altra coppia perché ultimamente sto facendo a collezione sto facendo buon tanto bellissime immagini wow ecco ecco il dinosauro ecco ecco il dinosauro è una pilga di youtube ok wow bellissima foresta eccolo che sta nascendo eccolo che sta nascendo 2020 fantastico ecco quello vogliono subito abbattere vai è stato colpito è stato colpito experience però penso lo vogliono domestica visto una mano mano fino a città 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 che grafica e so che tutto che è che vuoi uguale adoro wow adoro adoro ragazzi adoro mi piace troppo piace 3 billy cramer è finito tra l'altro ok aiuto no come al solito ho sbagliato beh beh non c'è niente di male sono su youtube vabbè ok ho preso vabbè niente facciamo stare ho detto il nome di questo tizio vi saluto vi saluto che è meglio perché non trovo più le parole ciao